Il catalogo è questo In Albania 231 Cento in Francia In Turchia 91 Non in Hispania Non in Hispania Sono già mille e tre Mille e tre Mille e tre Vanno fra queste contadine Familiere e cittadine Vanno contesse e valolesse Marchessine e principesse E vanno ogni Ogni caso Ogni forma Ogni età Vanno fra queste contadine